erano assolutamente a favore di un voto segreto e quindi riteniamo che come è avvenuto e hanno ricordato giustamente prima per il Presidente della Repubblica, vediamo che quando c'è il voto segreto ci sono i franchitiratori quindi questo poteva tranquillamente accadere con Berlusconi. Io ritengo che cambiare un regolamento per un voto palese e un voto segreto in un momento come questo e quindi perdere del tempo su una questione di questa natura dove c'è già un regolamento impreciso mi sembra veramente una vergogna perché questo Movimento 5 Stelle che ritiene una grande vittoria, ma una vittoria per cortesia la faccio con degli emendamenti sulla legge di stabilità portando a casa dei risultati, non certo sul voto palese. 5 Stelle la vittoria è dimostrare che la politica fa schifo a mandarvi tutti a casa, se lo metta in testa se vi aspettate che i 5 Stelle facciano cose concrete avete proprio sbagliato Lei ha ragione, però quando uno entra nelle istituzioni deve lavorare e deve portare a casa dei risultati se no parlando di antipolitica sono loro i primi rappresentanti di un'antipolitica che parla parla ma poi quando sono nelle sedi opportune poco concretizza. Va bene, la fermo perché...